Il decimo anniversario dalla fondazione dell'INFE, il Network Internazionale sull'Educazione Finanziaria dell'Ox, ha costituito l'occasione per riflettere sul ruolo che l'educazione finanziaria ha nel supportare una crescita sostenibile e inclusiva per quei paesi impegnati nel perseguimento degli obiettivi globali dell'Agenda 2030 dell'ONU. Dei risultati sui millennials, che hanno partecipato alla sesta edizione della rilevazione PISA-Ox dal 2015 al 2017, all'interno della quale per la prima volta è stata inserita l'educazione finanziaria come ulteriore materia d'indagine oltre a quelle scientifiche, emerge che in Italia gli studenti ottengono risultati peggiori in financial literacy rispetto agli studenti di altri 15 paesi del mondo, posizionandosi così ancora sotto la media OX. Solo il 50% degli adulti dei paesi G20 raggiunge il target minimo di conoscenze finanziarie e, nonostante questo, un risicato 15% si affida a consulenti per affrontare le proprie scelte basandole su un'informazione completa e adeguata. Ne emerge quindi che una priorità dei governi dovrebbe essere quella di implementare gli sforzi verso una vera inclusione sociale, che passa attraverso l'alfabetizzazione finanziaria, progettare e sviluppare politiche che siano rivolte alla cittadinanza, indipendentemente. Dallo status socio-economico, aiuterebbe tutti, dalle nuove generazioni ai cittadini più anziani, ad acquisire e a consolidare una cultura finanziaria, garantendo una maggiore inclusione sociale e lavorativa. In paesi come il nostro, caratterizzato da un'età media avanzata, aumentare le capacità di accesso e di conoscenza dei rischi legate ai propri risparmi significa anche alleviare la pressione sul sistema pensionistico nazionale. Inoltre, eliminare le differenze di genere, promuovendo iniziative per una maggiore consapevolezza nelle decisioni e nell'utilizzo dei servizi bancari e dei prodotti finanziari di base, migliorerebbe una crescita più inclusiva anche di una parte del paese penalizzata. Nella partecipazione al mondo del lavoro, in Italia, il 48,8% delle donne lavora, contro una media europea che supera il 60%. L'ex ministro delle finanze, Pier Carlo Padoan, all'Oxia ha rilevato come le istituzioni abbiano sottovalutato quanto la carenza di alfabetizzazione finanziaria abbia aggravato l'impatto di una crisi, così diffusa e penalizzante a tutti i livelli della vita familiare. D'altronde basti ricordare i 350.000 piccoli risparmiatori coinvolti dal default argentino per far emergere l'Italia come un paese che ha subito di più le crisi finanziarie che si sono avvicendate negli ultimi decenni, da quelle dei paesi emergenti negli anni 90, sino a quelle legate a nomi come Cirio e Parmalat, tristemente noti. Proprio tra i paesi del G20 l'Italia è stato l'ultimo a dotarsi di una strategia nazionale per intervenire a tutti i livelli, dai giovanissimi agli adulti in quiescenza nei prossimi anni, con un comitato nazionale per l'educazione finanziaria ma si tratta di una lunga strada. La sfiducia nelle istituzioni pare sempre più contagiare le democrazie occidentali e se c'è disaffezione verso le azioni di governo, viene meno anche l'effetto inclusivo che politiche sociali più attente e quanto mai necessarie cercano di cogliere. A dieci anni da una crisi finanziaria globale, che ha lasciato il segno in tutti i paesi, la lezione è una sola ed è legata alla necessaria e urgente priorità di impegnarsi in misure per una crescita economica inclusiva, con politiche di educazione fin dalle scuole primarie, per formare cittadini economicamente preparati a sfide complesse. Claudia Segre ha svolto la sua carriera in primarie banche italiane, specializzandosi sui mercati internazionali e nell'approfondimento delle dinamiche geopolitiche globali e alle relative correlazioni economico-finanziarie, ricoprendo ruoli di responsabilità in sala, operativa e manageriali nelle capogruppo di gruppo intesa, Unicredit e Credem. Presidente di Global Thinking Foundation e membro della consulta esperti della V Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Chairman del Board of Education di ACFX International dal 2012 al 2015, ora honorary member ACI International, socio fondatore di Assiom Forex, già vicepresidente di Assiom e stato segretario generale Assiom Forex dal 2009 al 2016 ed è attualmente direttore responsabile delle pubblicazioni e membro del consiglio direttivo, membro del comitato tecnico-scientifico di AD Consum Lombardia, ha collaborato con diverse università italiane e attualmente è docente per Assiom Forex, docente del Master Eraclito 2000 e per la FedUF di Abbi. Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.picte, o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Rue du Fortniedergrenod, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.picte nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S. A. che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee a guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT e unicamente per finalità illustrative. PICT non ha acquisito i rifi locali del gruppo PICT e un americano per valutare i marchi commerciali, i rifiutati del gruppo PICT e un piccolo